Eeeh, ti ho da dire una cosa No, bisogna dirla Questa è una massima per iniziare bene la giornata Il buongiorno si vede dal mattino Soprattutto quando si addrezza il pipino Maaaah Oh, mettiamo le calze, vai, 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 vai No, stondissimi, no, che miserobbi, ma vieno Madonna, stondissimi Ma possiamo chiedere una così? Ma parla uno che parla sottovoce Che si fa uno? Eh? Che si fa? Il suo fanciugolo per mettere lì E dopo che fai? E dopo la sta ferma se non ti infizzi questo Questo di qui, metticene più, no? Eh, buono Fuatelo di qua, no? Fermate Dio, ca... Oh! Ah! Che si fa questo coso? Oh, ti trema anche il braccio, guarda Guarda come ti trema Che ti trema? Che ti trema? Oh! Che ti trema? L'uccello Nooo, come fa? Mannaggia la madre No! Senti Senti Chi è? È l'erode di coglione, mannaggia Ma oggi è tutto un mannaggia, eh? Ho fatto ghiaccio, ti ho detto Sto un po' meglio oggi Tu non sei contento? Sì, sì, sto contento Ma l'erode di coglione Dici che hai bel maniato ora? Ciao! Grazie.